E' probabilmente il frutto di una bravata il grave episodio che nella tarda serata di ieri ha visto una ambulanza del ser Corato colpita da un oggetto mentre percorreva la ex statale 98 in direzione Corato proveniente da Andrea. Quel che è certo è che la fortuna si è messa dalla parte dell'infermiere che viaggiava sul lato passeggero della cabina di guida colpito solo da alcune schegge di vetri ha dovuto far ricorso alle cure dei medici per medicare alcune abrasioni. Niente di grave rispetto alla tragedia che poteva consumarsi se quell'oggetto, forse un grosso bullone lanciato da alcune persone appostate sul ciglio della strada, avesse sfondato il barabrezza colpito sul lato destro. Una situazione tragica sfiorata per ben due volte nella tarda serata di ieri perché a quanto risulta un'altra denuncia è stata registrata presso il posto di polizia della città di Corato da un automobilista anche gli vittima di un oggetto lanciato sulla sua vettura mentre viaggiava sulla provinciale 231. Una bravata che non è nuova nelle cronache anche del nostro territorio. In Italia nel 2016 l'osservatorio ASAPS, Associazione Sostenitori Amici di Polizia Stradale, ha registrato 85 episodi di lanci di sassi dal cavalcavia, tendenza rimasta pressoché identica anche nel 2017, nonostante gli arresti e le pene importanti combinate agli autori di questi stupidi episodi. Un grave episodio nel nostro territorio risale all'aprile del 1993 quando sulla A14 all'altezza di Giovinazzo un uomo perse la vita per un grosso sasso lanciato dal cavalcavia. Contattato dalla nostra redazione, il presidente del sercorato, Fedele Tarantini, è arrabbiatissimo. Un episodio doppiamente vergognoso, ha detto Tarantini, perché era un infermiere colpito mentre svolge il suo lavoro. Perché fermare un'ambulanza in corsa è un gesto infame? Per fortuna stava rientrando, ha detto Tarantini, ma se avesse trasportato un malato questi idioti ci avrebbero impedito di svolgere il nostro mestiere.